di alto livello. Delle tre persone di cui parliamo oggi, Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, non penso che nessuna delle tre abbia una tessera di partito in tasca, molto banalmente. Quindi non sono organici a nessun partito, ma hanno ricoperto incarichi da Marcello Pera che è stato Vice Presidente del Senato, oltre che Presidente del Senato, docente universitario. Filosofo, saggista, non penso sia da tutti scrivere libri insieme al Santo Padre, non penso che faccia più politica partitica attiva ormai da tanti anni, ma se il Senato lo scelse come seconda carica dello Stato, penso che non abbia perso i titoli, lo smalto e la voglia di essere protagonista di questa nuova stagione del Paese. Letizia Moratti è stata Sindaco, è stata Ministro, è stata Presidente della RAI, è stata Sindaco della mia Milano, portando a Milano l'Expo, creando rapporti internazionali che a Milano e all'Italia servono e valgono ancora oggi e attualmente, senza appartenenza di partito, Vice Governatrice, soprattutto Assessora della Sanità di una Regione che più di altre ha combattuto il Covid e meglio di altre ne sta uscendo. Carlo Nordio è uomo di legge, è uomo liberale, è uomo con idee chiare, perché il Presidente della Repubblica, oltretutto è Presidente del CSM e avrà nell'accompagnamento di una giustizia a misura di cittadino e di imprese uno dei suoi compiti, Consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, Procuratore aggiunto dalla Procura di Venezia, eccetera, eccetera, eccetera. Non presentiamo, e chiudo, dirigenti di partito, anche se, e lo dico io per evitare imbarazzo ad altri, ovviamente...